buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la didattica digi bruno moltrasio questa sera vediamo un po di tecniche molto semplici sul forex ultimamente ho deciso di togliere dal grafico qualsiasi oscillatore perché come sappiamo è in ritardo rispetto ai prezzi allora questo questa affermazione la comprendiamo subito se mettiamo una media mobile come quella che vediamo sullo schermo in blu sul grafico perché questo perché in modo molto semplice vediamo che la media nel momento in cui è sul prezzo chiaramente è attaccata al prezzo ma nel momento in cui il prezzo taglia la media lo vedete la media ha un certo ritardo questo lo vediamo a maggior ragione se alziamo il periodo della media quindi proviamo ad alzare periodo della media mettere per esempio vedete la cosa bella di questa piattaforma è che in tempo reale voi vedete sul grafico quello che succede alzando un periodo quindi mettiamo la media 100 periodo periodi e andiamo a verificare quello che succede quindi in questo caso per esempio se io decidessi di entrare nel momento in cui la barra o la candela che sia chiude al di sotto della media in in questo caso dove ho il cursore in questo momento la candela chiude a 0 81 37 ma la media si trova molto più in alto si trova a 81 42 quindi è chiaro che c'è questo ritardo allora uno dei sistemi che è stato studiato in passato da molti trailer è stato quello di utilizzare non il taglio dei prezzi sulla media ma per esempio il taglio di due medie il che consentiva di avere meno falsi segnali soprattutto nelle fasi laterali dopodiché si è cercato un altro strumento che è quello del pullback cioè non entro più al taglio della media ma entro al pullback in questo caso se andate a vedere la media 100 periodi è una media che funziona piuttosto bene nell'intraday sulle valute e soprattutto su questo cross valutario euro sterlina vedete che ha un suo significato infatti qui per esempio il mercato taglia al ribasso fa pullback e poi torna a scendere un altro pullback e torna a scendere e così via è stato diciamo quasi millimetrico questi segnali sono stati quasi millimetrici un'altra delle medie che potete mettere sul grafico è la media a 200 periodi quindi qui potete aggiungerne quante ne volete andiamo ad aggiungere una media a 200 periodi e vediamo come si comporta rispetto a quella a 100 fra poco ci siamo ecco qua 198 200 periodi la ovviamente coloriamo in un altro modo non viola ma rossa eccola qua e la facciamo un pochettino più spessa bene per capire che la 200 ancora un po di più ok vedete che in questo caso il trend è molto ben definito dal taglio delle due medie perché abbiamo il taglio delle medie in questa in questa zona ma ancora una volta come vi dicevo prima comunque siamo in ritardo rispetto ai prezzi si trovano qua in alto le due medie tagliano molto più basso quindi anche se poi mi definiscono molto bene il trend vedete i vari pullback anche sulla 200 come come tengono più volte anche se il trend è molto ben definito però come dicevo prima si hanno diversi falsi segnali e tutto ciò che arriva ai nostri occhi è sicuramente ritardato rispetto al prezzo allora quello che ho fatto come vi dicevo prima è semplicemente eliminare tutto dal grafico bene un'altra delle cose che può sembrarvi antipatica ma secondo me questo ovviamente è una cosa molto personale secondo me vale la pena di provare ad abituarsi man mano è quello di provare a mettere un grafico bar chart al posto delle classiche candlestick e fra poco video subito perché coloriamo in modo che siano un po più visibili e le allarghiamo eccole qua chiudi che vantaggio hanno le grafici a barre rispetto al grafici candlestick rispondo subito al volo a Francesco questo è il programma che IG da gratuitamente a tutti i suoi utenti quindi a tutti coloro che hanno un conto hanno questo programma che è sostanzialmente gratuito perché con mi sembra due eseguiti andate e ritorno si ha la gratuità e quello di ProRealTime è un programma molto avanzato che ha tantissime funzionalità viene dato insieme alla piattaforma di trading quindi a quella dispositiva questa invece è la piattaforma informativa bene allora che vantaggio ho con i grafici a barre rispetto ai grafici a candele a me per esempio da subito l'idea del trend perché dico questo perché nei grafici a candele non ho immediatamente la percezione dell'apertura di una barra rispetto alla chiusura di quella precedente cosa che invece ho nei grafici a barre adesso riempiccioliamo un po' così vi faccio vedere meglio vi faccio capire meglio questo concetto vediamo se riusciamo a metterlo un po' più rosa ecco qua ecco qua per esempio se io allargo un po' questo grafico qui vedo che ho una barra che chiude in questo punto e quella dopo che apre sullo stesso punto e mi fa una reversa al bar quindi questa è immediatamente una barra che mi fa capire che il mercato da qui potrebbe avere quantomeno una correzione ci sono altri tipi di questi segnali questo per esempio è un altro di questi segnali questo è un altro di questi segnali e via dicendo alla fine è nient'altro che il corrispondente grosso modo di quella che è l'engulfing sulla sui grafici a candele l'engulfing birish e bullish sono due due candele che praticamente contengono contemporaneamente quella precedente quindi questa per esempio sarebbe una birish engulfing nella candlestick ve la mostro per farvi capire subito la differenza eccola qua vedete che è una birish engulfing però se io passo la grafico a barre a grafico a candele o non so se per voi la stessa cosa probabilmente per molti di voi no perché non siete abituati a usare le barre ma ora immediata percezione di come sono posizionate le aperture le chiusure rispetto a quelle precedenti a quella della barra o la candela precedente quindi restiamo per un attimo sul bar chart grafico ai che nasci a tutto un altro criterio di costruzione giovanni quindi questo momento non lo prendiamo in considerazione c'è comunque un articolo sul sito dg che ho scritto proprio sulle ai che nasci ok allora come posso utilizzare quindi il grafico molto pulito questo è un grafico a tre minuti per fare del trading veloce quindi trading di brevissimo termine come è il titolo di questo di questo incontro sulle valute bene io quello che vado a cercare è innanzitutto negli orari attenzione non andate a tradare è vero che magari qualcuno è nottambolo però la sessione notturna come vedete un gran laterale salvo che non vi siano motivi particolari ma è il mercato di notte per certe valute ovviamente non non si muove granché salvo ripeto che non ci siano eventi particolari sui mercati aperti in quelle ore tipo quelli orientali giapponese hong kong eccetera però dall'apertura tipo dalle 8 della mattina posso andare a cercare dei pattern quali sono questi pattern beh allora uno dei miei pattern preferiti è sicuramente come vi dicevo prima quello che è il corrispondente della birch engulfing però è in questo caso si chiama reversa al bar che cosa faccio ma voglio andare a cercare almeno tre barre tre ma anche quattro cinque o sei meglio ancora più ce ne sono meglio è rialziste oppure ribassiste questa è una tecnica che insegnavano velez e capra oliver velez e grec capra 23 che hanno scritto diversi libri di didattica sul trading sto leggendo la vostra domanda e mi si dice come tempo più basso uso il tre minuti e sbagliato tra le due minuti no potete usare qualsiasi grafico vi piaccia io adesso sto usando un tre minuti potrei anche usare un grafico a un minuto non cambia nulla l'importante cosiate sempre la stessa tecnica per esempio partiamo da qua queste sono le otto andiamo a vedere se troviamo almeno tre barre consecutive con massimi crescenti e minimi crescenti allora qui non ne abbiamo perché ce n'è una qui sono barre inside queste qui non sono tre massimi crescenti qua non li abbiamo qui non li abbiamo qui cominciamo ad avere tre massimi crescenti 1 2 e 3 non sono grandi massimi crescenti cioè non sono barre di espansione non sono barre importanti quindi in questo caso non faccio ancora nulla potrei però teoricamente andare già short quando avessi un segnale di short in questo caso lo short verrebbe alla quarta barra alla chiusura della quarta barra perché è negativa quindi alla apertura della quinta quindi la quarta barra chiudo mi fa una barra negativa alla quinta vado short e poi in questo caso in questo particolare caso l'operazione non da un gran profitto perché viene chiusa vedete che non 81 46 non scende molto siamo sempre su un grafico a tre minuti perché quindi sono costretto a chiuderla o in pari o in leggero l'osso se non sono sufficientemente veloce nel chiuderla quindi la prima operazione in questo caso la segniamo andiamo a prendere la nostra freccia allora è qua qui siamo entrati short all'apertura di questa barra qua e l'operazione non va bene subito dopo oggetti figure e frecce andiamo a prendere vi faccio vedere come si fa si prende da qua quindi oggetti figure e frecce freccia rossa quindi andiamo a cercare altre barre con dei massimi crescenti allora qui abbiamo una barra una barra inside poi abbiamo una barra di espansione molto importante qui in realtà non avremmo i tre massimi crescenti anche se avremmo una barra di espansione molto importante e quindi potremmo anche sulla barra reversa che è poi il nostro pattern andare short non solo barra reversa ma sull'apertura della barra successiva poi andiamo avanti vediamo un massimo crescente due massimi crescenti tre massimi crescenti la quarta barra è la barra di reversa andiamo short sull'apertura della quinta barra andiamo avanti per il momento andiamo a prendere tutti quelli rialzisti cioè le barre le tre barre rialziste 3 barra 4 barri rialziste e cerchiamo soltanto i segnali short andiamo a prendere ancora una volta la nostra freccia e adesso la troviamo perché eccola qua ok quindi andiamo avanti qui non c'è nulla qui abbiamo una prima barra che fa un massimo ma non è positiva quindi non la consideriamo quindi questa questo short purtroppo non riusciamo a farlo perché questa barra che è la prima è vero che ha fatto un primo massimo ma non è una barra positiva quindi non ci interessa poi abbiamo 123 questa fa un nuovo massimo ma è una barra negativa 4 questa qui scusate 123 la barra negativa quindi la quarta si azzera il conteggio e non fa nulla 12 non fa nulla andiamo avanti quindi abbiamo una negativa una positiva negativa positiva positiva quindi non c'è nulla qui abbiamo le tre barre questo non è un nuovo massimo quindi non possiamo considerarlo valido andiamo avanti qui abbiamo le barre intervallate quindi non abbiamo nulla da poter fare è abbastanza semplice da individuare qui abbiamo una barra due barre tre barre ma non abbiamo alcun che eccola qua qui e questo è un segnale 123 barre barra negativa abbiamo un altro short da poter fare quindi andiamo ancora una volta a prendere i nostri oggetti una due tre barra negativa di setup quindi entriamo qua sotto andiamo a vedere adesso il contrario cioè partiamo sempre dallo stesso livello dalle 8 del mattino e andiamo a vedere se ci sono invece i segnali long quindi per avere tre segnali i segnali long cosa devo fare devo fare l'esatto contrario cioè devo cercare tre barre con minimi decrescenti poi dopo rispondo a tutte le vostre domande devo cercare tre barre con tre minimi decrescenti e poi entro all'open della barra successiva gli stop ve lo dico subito gli stop sono in pips fissi quindi posso decidere di mettere dieci pips posso decide di mettere 8 pips dipende dal time frame che uso sul tre minuti per esempio dieci pips sono più che sufficienti quindi andiamo per esempio a vedere questa come si chiama questa tecnica non ha un nome è una tecnica che utilizzo quando faccio scalping scalping intrarai trading diciamo trading di brevissimo termine allora andiamo a vedere di prendere sempre la nostra freccia questa volta prendiamo la freccia verde partiamo dal solito punto delle 8 andiamo a vedere quando abbiamo tre barre negative dunque qui andiamo avanti non abbiamo mai tre barre negative con tre minimi decrescenti qui cominciamo ad averle prima barra seconda barra terza barra negativa benissimo ho la barra di reversal che è questa barra positiva quindi qui entro long all'apertura di questa barra 08137 08134 quindi il trade in questo caso va per il verso giusto andiamo avanti 1 2 3 apertura anche in questo caso qua barra di reversal positiva entro all'open della barra successiva quindi entro qui entro a 08134 un minimo lo fa a 08129 qui quindi sono ancora in posizione e quindi anche questo trade è un trade che va per il verso giusto andiamo avanti se non fossi entrato su questa avrei avuto 1 2 3 4 barre negative quindi con 4 barre negative scatta il mio setup barra positiva di reversal entro su questa barra all'apertura andiamo qua perché qua vede un caso in cui probabilmente vediamo allora questa è la prima non si conta perché viene annullata 1 2 3 questa si può considerare comunque una barra questa barra qua si entra questa è la barra di setup quindi sarei entrato long su questo sopra questo minimo cioè all'apertura di questa barra scusate a 08133 in questo caso ancora non sono andato in stop perché 08125 vedete che con 10 pip di stop su un grafico a 3 minuti dopo che entrate con 4 barre con 3 barra 4 barre contro trend è difficile che prendete uno stop di 10 pip immediatamente quindi poi forse va in stop più avanti ma in questo caso qui vi sareste già chiusi perché non stiamo con un'operazione con un mercato di questo tipo quando possiamo anche prendere profitto a un certo punto o chiuderci in pari quando il mercato va in laterale dalle 12 12 fino alle 15 insomma sono tre tre ore di mercato laterale e sicuramente avremmo fatto qualche cosa prima bene quindi questa è la tecnica ovviamente cosa c'è da dire di questa tecnica beh ci sono da dire un po di cose anzitutto vediamo magari le vostre domande così poi quello che non è stato domandato vediamo di esaurirlo con la chiusura di questo argomento allora torno indietro e andiamo a vedere le vostre vabbè sul discorso time frame ne abbiamo già parlato ma approfondiamo un attimo il discorso time frame può essere il 3 minuti può essere il minuto può essere il 2 può essere il 5 ovviamente più abbassiamo il time frame più avremo dei target piccoli e degli stop piccoli cioè su un time frame a un minuto per esempio non dovrei andare sotto i 6 pips di stop 6-7 pips al massimo insomma ovviamente i target sono paragonabili e poi posso gestire in tre gli stop posso fare tantissime cose però cominciamo a partire dalla tecnica di base quindi più alzo il time frame più posso ambire a target ambiziosi ma ovviamente dovrò anche alzare gli stop questo è pacifico dopodiché andiamo a riprendere le vostre domande il setup è valido anche se la barra inside no matteo ciao no matteo perché abbiamo visto che dobbiamo avere tre massimi crescenti e tre minimi crescenti cioè almeno tre massimi almeno tre minimi crescenti quindi barra inside annulla il setup in pratica come si chiama questa tecnica abbiamo detto che non ha un nome perché la utilizzo io nell'intra lei magari la battezzeremo per il prossimo webinar qual è il segnale per andare short allora lo rivediamo il segnale per andare short è nel momento in cui si hanno tre massimi crescenti e tre minimi crescenti quindi per esempio se voglio andare a prendere un segnale short qui ho un massimo due massimi tre massimi quindi tre barre positive con massimi crescenti qui posso andare short proviamo a prenderne ancora un altro minimi crescenti devo avere tre minimi crescenti e tre massimi crescenti quindi per andare invece longa è il contrario quindi devo avere uno due tre barre di minimo tre minimi decrescenti tre massimi decrescenti massimo 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 poi in realtà i massimi decrescenti si riducono a due nel caso di long e a due minimi crescenti nel caso di short quindi qui in questo caso vedete avete un massimo due massimi tre massimi i minimi crescenti in realtà sono due delle tre barre quindi questo è già un pattern e qui posso andare short su questa barra poi andiamo a vedere le altre domande spero che sia chiaro il setup mi sembra abbastanza semplice dopo le tre barre long vi deve essere la barra short esatto e viceversa dopo le tre barre short ci deve essere la barra long cioè quindi dopo le tre i tre massimi crescenti devo avere una barra di reversal quindi torniamo a fare l'esempio 1 2 3 barra di reversal l'entrata del trade è sull'open della barra successiva poi altre domande la quarta negativa la quarta negativa no la quarta negativa praticamente se la quarta negativa si apre all'open perché che questa è negativa lo fa soltanto quando chiude cioè faccio vedere se io ho una due tre barre positive con tre minimi crescenti e tre massimi crescenti e questa barra devo averla negativa ma che questa è negativa lo fa soltanto quando chiude perché se questa barra fosse andata su ancora avesse chiuso poi in alto sarebbe stata la quarta barra quindi devo aspettare che chiudo la 4 la quarta barra quindi è un pattern minimo di quattro barre con le candele se siete capaci di usarlo con le candele usatelo con le candele io con le candele non riesco uso le barre per usare questa tecnica perché vedo i minimi massimi crescenti molto bene rispetto alle candele e quindi il pattern è un pattern che ha minimo quattro barre e la quinta sarebbe quella di entrata quindi il setup sia minimo quattro barre ma ripeto se adesso vi farò vedere anche alzando il time frame come la tecnica può essere efficace e più barre o positive più barre o negative più la tecnica efficace quando vado sul reversa allora andiamo avanti va bene con tutti i cross io lo uso sui principali cross però ovviamente potete provarla anche su altri cross mi dice michael michael credo che sia così e non penso che sia michelle perché c'è una ea quindi che questa è una tecnica molto valida un'ottima strategia per gli sprint market beh certo assolutamente sì condivido quindi sono felice di averle dato un input importante per per tradare gli sprint market quindi mi diceva stefano che non ha molta tecnica con le barre se può usare le candele certo se riesce benissimo assolutamente sì l'uscita dal trade si fa nella medesima barra di entrata non necessariamente dicevamo prima che qui la gestione della posizione deve essere fatta con innanzitutto con riferimento in relazione al tipo di time frame che utilizziamo sul grafico quindi ho uno stop di 10 pips devo avere almeno un target di 7 8 pips non di meno qui il solito discorso si obietterà come da più parti si dica che si devono avere dei target almeno 1 a 2 1 a 3 1 a 4 queste regole non valgono per me io non ho questo tipo di gestione della posizione quindi quando sentite parlare a me rassegnatevi al fatto che io ho dei target a volte più piccoli come in questo caso dello stop quindi in questo caso io prendo 7 8 pips di target e ho decino di pips di stop poi ovviamente va tarato in base alle valute ma generalmente questo questi sono valori che vanno bene un po' per tutte le valute poi vediamo altre domande quindi Giovanni credo di aver risposto alla tua domanda dove mi dici l'uscita del trade si fa nella medesima barra di entrata potrebbe anche non essere alla medesima ehm se c'erano solo i massimi al rialzo e i minimi al ribasso si ma devo avere Claudio devono esserci sia massimi che minimi crescenti eh facciamo l'esempio queste tre barre sono tre barre di setup perché hanno tre minimi crescenti e tre massimi crescenti quindi la quarta barra è una barra di reversal qui entro short questo è un trade che va male per esempio ehm questo è uno che va male ma ehm in questo caso qua per esempio qui ho tre minimi decrescenti e ho tre massimi decrescenti ho la barra di reversal entro all'open di questa 10 tick di stop 10 pip di stop abbiamo visto che non saremmo andato in stop questo invece è un trade che va ehm assolutamente bene ehm vi dico anche una cosa questa è una tecnica di scalping è una tecnica di inserire molto veloce specie se usiamo dei grafici a tre minuti a due a un minuto quindi ehm si tende a portare via un po' di pips al mercato tenete conto che poi non avete soltanto ehm ehm un grafico davanti no perché mentre questa fa una barra negativa e comincia il setup magari su euro dollaro ehm avete già le due barre positive negativi o positive quindi andate di là a fare trading su quell'altro quindi quando tenete tre quattro barra quattro grafici non di più perché poi è difficile tenerli sotto controllo tutti ehm potete fare trading su diversi grafici contemporaneamente quindi quando io porto via cinque sei pips sette pizza per ogni per ogni operazione e nell'arco delle due tre ore sono riuscito a fare ehm cinque sei sette operazioni ehm ho fatto ho fatto una media giornaliera insomma ehm di tutto rispetto ehm devo essere molto molto capace molto veloci a leggere i grafici perché ehm insomma comunque questa tecnica prevede una massa la massima attenzione su quello che succede sul mercato ehm però ehm diciamo che ehm è una tecnica che può portare degli ottimi risultati sempre che ehm non esageri con ehm le operazioni cioè cosa voglio dire per non esagerare quelle operazioni cioè voglio dire mi metto a fare trading e faccio soltanto quelle operazioni dove il setup è completo non è che devo cominciare a dire ma sì però questa barra qua è inside però tanto è bello lo stesso lo faccio ugualmente no ehm se non c'è il pattern ehm non si fa nulla quindi devo sapere aspettare questo è eh è una regola che vale sempre sul mercato cioè se ho una tecnica devo applicare le regole di quella tecnica sempre e non a casaccio ehm andiamo a vedere praticamente si entra sui tracciamenti direi di no si entra ehm non necessariamente sui tracciamenti si entra dopo che c'è stato un trend è praticamente una tecnica che va contro trend questa quindi è una tecnica molto rischiosa ed è per questo che voglio dei target ehm piccoli rispetto allo stop proprio perché vado contro trend e quindi andando contro trend voglio uscire dal mercato ehm quanto più rapidamente possibile ehm questo è un po' il diciamo il concetto ehm che mi porta ad avere dei target piccoli ehm rispetto allo stop proprio perché vado contro trend molto spesso invece quando si va in trend ci si può permettere eh di avere i target eh maggiori ehm poi sul discorso di trend insomma qua c'è parecchio c'è parecchio da spendere ehm di parole e di tempo per capire nell'intraday soprattutto quale può essere il trend di giornata ehm uno dei modi più semplici è vedere ehm se la valuta è in positivo e in negativo quindi se è positiva probabilmente presumibilmente il trend è rialzista ma non è detto e se è negativa viceversa il trend eh sarà ribassista dico non è detto perché potrebbe essere che magari la valuta è andata su dell'1% e adesso fa soltanto uno 0,20 e allora è un discorso relativo cioè se la valuta è salita dell'1% adesso fa 0,20 è vero che è positiva però probabilmente eh sta avvenendo da un trend eh di brevissimo eh negativo quindi vi faccio l'esempio se la valuta è salita e poi è scesa sono ancora positivo ma il mercato è sceso eh eh è chiaro che il trend ultimo di breve eh è un trend ribassista quindi essendo io un trader in questo caso di brevissimo termine non devo guardare il trend di fondo devo guardare il trend di breve di brevissimo questo è il trend che comanda i miei trade nel nell'intraday nel quando faccio dello scalping veloce allora andiamo avanti con le domande vedo che sono tante quindi evidentemente eh l'argomento eh vi interessa allora eh occorre che ci sia un trend principale operare solo a favore di trend oppure no eh no io questo lo escluderei perché mh sarebbe fin troppo facile dirvi eh rispondervi di sì eh perché è chiaro che operare in favore del trend è sempre la cosa eh del trend principale ovviamente è sempre la cosa migliore eh però è talmente difficile complicato per molti di voi io ormai faccio formazione dal 2003 quindi sono oltre dieci anni che faccio formazione e eh mi rendo conto che una delle cose più difficili per il trailer che affronta l'intraday è capire quale sia il trend eh per cui eh siccome è difficile capire quale è il trend è altrettanto difficile operare in favore del trend per cui io dico usiamo una tecnica e ehm lasciamo da parte la direzione del trend e entriamo ogni qual volta il nostro setup è completo punto eh dopodiché se sono in direzione del trend tanto di guadagnato e poi un altro discorso ovviamente da affrontare è che il eh qui mi fa un po' ridere questa cosa ma eh una delle definizioni che danno del trend ehm quello del concetto di persistenza del trend è che un trend è in essere fino a che non viene invertito no? cioè quindi mi fa abbastanza ridere questa cosa perché come fai a capire che sei in trend ehm cioè se il trend c'è fin quando non è invertito eh rischio di entrare in favore del trend che poi un attimo dopo si inverte e quindi sono dalla parte sbagliata quindi eh ci sono delle tecniche per capire qual è il trend ma qui abbiamo detto noi non utilizziamo indicatori non utilizziamo oscillatori utilizziamo soltanto le barre e ripeto per quelli che si sono messi in ritardo eh in ascolto perché vedo che ci sono ancora un paio di domande di qualcuno che non ha ben compreso come sia il segnale lo riepiloghiamo un segnale short ce l'ho nel momento in cui ho tre barre con tre minimi crescenti e tre massimi crescenti ehm in questo caso ho un segnale short ho un setup short aspetto la quarta barra che deve essere contraria al trend di provenienza quindi deve essere una reversal bar questa è una reversal bar quindi una barra, due barre, tre barre che hanno i requisiti che abbiamo detto una reversal bar entro in questo caso short sull'apertura della barra successiva quindi nella quinta barra in questo caso le barre possono essere tre o più di tre più sono con tre minimi crescenti e massimi crescenti e più sono felice in questo caso ne abbiamo soltanto tre trend invece eh trade operazione rialzista si ha al contrario quando ho tre massimi uno, due, tre decrescenti massimi decrescenti soprattutto minimi decrescenti perché i massimi in realtà qua c'è un primo massimo poi abbiamo uno, due massimi decrescenti ma il pivot è fatto sui minimi quindi uno, due, tre minimi decrescenti barra di reversal si entra in open sulla quinta barra in questo caso e il pip di stop sono dieci almeno una decina nove, dieci pip di stop e il target è sette otto ma anche se vedo che il mercato non spinge anche cinque chiudo l'operazione ripeto può sembrare strano questo rapporto di rischio rendimento ma vi garantisco che in questo modo gli stop che prendete sono davvero molto molto pochi a patto ovviamente di identificare correttamente il setup non capisco la domanda di sebastiana e dice sul time frame di cinque minuti se possiamo vedere sul time frame di cinque minuti non lo so vediamo cinque minuti ok non è che cambi granché eravamo sul 3 adesso mettiamo sul 5 quindi vediamo se ci sono dei setup eccone uno una, due, tre quindi minimi crescenti barra long ok ecco questo qui è bellissimo per esempio vedete guardate qua sul 5 minuti una, due, tre quattro cinque sei barre questa è la barra di reversal entro sopra al massimo scusate entro in apertura di questa barra questa qui in realtà abbiamo questa barra inside ma questo è un caso in cui posso far finta che la barra inside sia nient'altro che la barra precedente cioè abbiamo comunque il pattern perfetto uno, due, tre, quattro, cinque, sei barre ribassiste barra di reversal entro 08128 su questa barra e guardate fa un massimo 08135 quindi anche qui come vedete posso prendere i miei cinque pips non sarei mai andato in stop perché 08128 sarei ancora dentro 08123 di minimo però è chiaro che io qui voglio prendere profitto quindi quando mi fa 5, 6, 7 pips li porto a casa è vero che non accelera non spinge qui ci vuole un po' di esperienza poi ovviamente cioè come vedete che il mercato non spinge perché il mercato delle valute quando parte vedete cosa fa mi fa una barra così quindi quando viene giù così e comincia poi a far fatica a scendere e qui potete chiudere l'operazione se siete short quindi è molto sensibilità d'altra parte quando volete fare il trading veloce esiste il trading veloce grafico che è quello che vi sto facendo vedere io ma l'uscita sul trading veloce deve essere altrettanto altrettanto intuitiva cioè ho un target ma se non ci arriva devo uscire non posso permettere un'operazione che sta guadagnando di generare poi delle perdite andiamo a vedere le altre vostre domande allora mi dice Antonio massimi crescenti o decrescenti se si vuole andare short le barre verdi con soli massimi crescenti eh no short deve avere anche i minimi crescenti devo avere delle barre che hanno minimi e massimi crescenti per andare short e delle barre minimi e massimi crescenti per andare long ecco Ettore perché 2 e non 3 minimi crescenti vabbè d'accordo Ettore perché non 4 e non 5 va bene anche abbiamo detto anche 4 e 5 infatti qui in questo caso abbiamo 1 2 3 4 5 addirittura 6 minimi decrescenti 6 massimi decrescenti 1 2 3 4 5 e 6 quindi qui addirittura ecco in questo caso per esempio vedete qui è un massimo che non è decrescente ma eh qui deve andare in funzione quella cosa che si chiama cervello e dobbiamo usarlo nel senso questo qui è un forte trenare bassista se anche questo è un massimo che non è decrescente eh questa barra insomma mi fa la set up in assoluto cioè mmm non siamo un trading system abbiamo la fortuna di poter far andare eh la materia grigia e quindi nel trading è molto importante la materia grigia bisogna 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 sfruttarla al massimo eh vedete qua c'è un altro set up una due tre quattro barra di reversal si entra sopra questa questa qui in tempo reale 81 29 saremmo entrati sul mercato eh quindi questo per esempio è un trade che si sta verificando proprio ora su quello sterlina e che eh era da entrare quindi uno due tre quattro massimi decrescenti minimi decrescenti barra di reversal open di quella successiva si entra sul mercato quindi qui c'è un'operazione aperta eh virtualmente ovviamente in questo caso full euro sterlina long da eh 0,81 29 eh andiamo avanti con le vostre domande sono davvero tantissime credo che sia una delle poche volte che ci sono così tante domande ehm se ci fossero quattro barri in long va bene lo stesso assolutamente lo abbiamo appena appena visto per lo short e quindi vale viceversa anche per eh il long allora sembra una tecnica facilmente traduciva in un expert advisor hai provato risposta no eh in realtà eh questa è una tecnica che funziona molto bene eh se c'è il trader che la fa funzionare non ho però provato a mettere un expert advisor esiste questo pattern di Oliver Veles e Greg Capra e quindi si potrebbe anche provare a eh metterlo in un eh in un trading system per vedere come funziona chiaro che un trading system poi non ha eh la capacità di eh di discernere eh quelli che sono ehm guardate che bello questo qua di discernere quelli che sono eh gli interventi umani no? per esempio quel doppio massimo di prima che non era un massimo recrescente però la barra era buona lo stesso guardate qui avete una due tre barre a rialzo barra di reversal si entra short qua sotto a zero 81 44 qui avete una due tre quattro cinque sei sette 8 barre qui si entra short qua ma il mercato eh ci scappa via vedete non non fa nessuna correzione qui dopo essere entrati short qui il mercato eh comunque va a rialzo per cui eh questo è un trade che andava male eh ecco la cosa bella di questa tecnica è che va anche male perché altrimenti non sarebbe credibile eh tutte le tecniche che ci dicono che funzionano sempre bisogna diffidare eh perché non è proprio così ecco questa qui è un'altra una due tre barre barra di reversal si entra short qua su questa apertura l'apertura della quinta barra e anche questa qui invece va molto bene eh va bene andiamo avanti con le domande perché altrimenti non riusciamo a disaurirle tutte che ce ne sono veramente tante allora il rischio rendimento è sfavorevole assolutamente sì Marco eh è assolutamente sfavorevole nel senso che eh ho rendi rischio rendimento ehm uno a mezzo alcune volte per cui il rischio rendimento è assolutamente eh svantaggioso però eh i target sono veramente tanti Flavio quanti gra mi chiede quanti grafici ciao Flavio quanti grafici riesce a seguire contemporaneamente con questa tecnica se il mercato non si muove tantissimo anche quattro eh se il mercato comincia a muoversi hm anche un paio sono già sono già sono già tanti quando il mercato si muove però tieni presente che ehm il setup sono eh magari si verificano su un grafico non si verifica sull'altro quindi eh in effetti a questo proposito più che un un expert per fare il training automatico potrebbe essere utile un expert e magari lo faccio anche fare e poi lo diamo ovviamente ai clienti di IG eh come altri expert che abbiamo fatto in passato potrebbe essere utile un expert che ci segnali quando abbiamo eh una un setup quindi tre barre con minimi crescenti e tre barre con massimi crescenti potremmo potremmo fare sia il setup quindi sia il l'indicatore da mettere sul grafico sia un pro screener sapete che la piattaforma DG ha il pro screener cioè un ehb una screener automatico che gira in base ai a quello che noi gli chiediamo eh ci segnala su quali valute su quali iscrumenti finanziari indici o anche azioni si sta verificando il pattern che noi gli chiediamo quindi questo potrebbe essere un'ottima cosa allora il problema è se continua il ritracciamento spesso si perde certo chiaro se continua il ritracciamento cioè un ritracciamento se continua il trend iniziale è chiaro senza averci dato la possibilità comunque di prendere un po di profitto la logica di questa tecnica è che dopo tre quattro cinque sei barre di trend ci sia una pausa di questo trend e quindi io voglio rosicchiare qualche pips nella pausa di questo trend siccome i trend sono difficili da prendere è difficile capire quando parte un trend però posso capire quando parte la collezione di un trend quindi quando il trend va un attimo a riposare e lì voglio prendere un po di un po di profitto è chiaro che essendo una tecnica che va contro trend che ha un rischio rendimento svantaggioso devo essere molto abile nell'utilizzarla molto fa poi l'esperienza sicuramente però avere già una base con dei setup di entrata aiuta molto a identificare quelli che sono i punti di svolta del mercato andiamo avanti con le vostre domande cosa ne pensano le che nasce stefano fatto un articolo sulle che nasce che trovi sul sito di g quindi penso tutto il bene possibile a condizioni di sapere come funziona perché molti usano le che nasce senza neanche sapere come si formano le barre di candele quindi andiamo a vederlo bene capito come funziona e allora poi tutto può essere utilizzabile c'è tutto quello che io voglio utilizzare voglio sapere come funziona tra massimi tre massimi e due mini crescenti è accettabile sì assolutamente le chiusure possono essere positive questo non capisco la domanda ma devo avere tre minimi crescenti tre massimi crescenti devono essere tutte barre positive ho capito giusta la domanda era corretta era pertinente sì no voglio tre barre positive cioè tre mini crescenti tre massimi crescenti e tre barre positive non mi basta avere una barra in mezzo che sia negativa anche se a minimo e crescente grazie dell'osservazione e l'uscita è molto semplice giovanni ai 5 6 7 più di target 8 pub di target e 10 pub di stop quindi non c'è molto da pensare se vedi che il mercato non spinge esci tre quattro cinque pezzi porti a casa poi magari un prossimo webinar l'organizziamo facendo un po di operatività così vi faccio vedere in concreto come come si utilizza in questo caso il trading è assolutamente manuale questa tecnica è specifica per le valute si oppure può andar bene anche per i future negli indici tipo il germany e germany 30 che si muove parecchio quindi può essere valida anche per indici di questo tipo qua attenzione però perché se sul germany 30 mettete 10 10 punti di stop quel contratto grande sono 250 euro quindi quantomeno trallate il piccolo sapete con i g potete fare anche i mini contratti mini cfd e quindi avete un quinto del valore di quello grande la leva è quella che vi dà i g quindi non non avete problemi fate sempre pochi contratti ecco magari sapete che potete usare anche i mini quindi anche per impratichervi magari invece che usare il contratto grande cominciate ad usare il piccolo poi quando siete pratiche pratici vedete che la tecnica funziona che l'avete fatta vostra provate a utilizzare quella quella i contratti più grandi bene l'ultima domanda di lì ma c'è appena stato un pattern su euro dollar favorevole sui tre minuti bene grazie silvano dell'osservazione con indicatore a soci e le candele che nasci stefano magari lo tratteremo in un'altra serata non è argomento di questa sera e non è ovviamente un discorso che possiamo esaurire con due parole oltretutto siamo praticamente in chiusura bene come consigli sul germany sempre la stella tecnica votata allo stesso modo dovete valutare sugli indici quali siano gli stop e i target più opportuni così come poi dopo va adattato su ogni valuta va bene comunque magari organizzeremo poi come dicevo un altro webinar la prossima volta per per vederla in pratica per vederla funzionare intanto ringrazio tutti dell'attenzione e grazie alle vostre domande state molto numerose ci vediamo ad una prossima edizione buona serata a tutti buona静ina